Si parte un po' in sovrasterzo, devi controllare col controsterzo l'ingresso in derambata della curva Vabbè sta l'ultima gara della sera, poi come le dì va bene, ci sono poi anche le altre da fare, questo è veramente 5 minuti di gara, fanno sempre troppo corte Dai, tempi lunghissimi Dai, tempi lunghi Go easy on me, I'm a pensioner, pensioner, chi ha l'inglese, è l'ultimo, non qualificato, senza tempo Vai easy con me, sono un pensionato E andremo piano con lui allora Eccomi qua, star quinto Parca 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 dietro succede un casino, tutto bene per me tutto bene per me, tanti penalizzati, molto bene vai star grazie a tutti grazie a tutti andiamo alla curva a bomba a mano, trick e track grande direzionalità ci sono stato dentro buona la prima pure la seconda e la terza andiamo per la quarta grande grande, ora per la serie giù e via verso l'ultima stallo 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 ma via 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 si è sempre ridotto il vantaggio lo devo portare fino conservare fino alla fine anche di pochissimo basta questa curva senza tanta luce rischio, rischio, rischio rischio ma è inutile a star che si avvia verso una vittoria con la solid white tesla, terza vittoria della giornata è grandissimo star ciao a tutti, non mi prendete più non mi prendete non mi prendete star pari vittoria 533 allora è proprio il mio numero tre vittorie in 533 grande star questa la salvo e la carico a parte 373 vittoria grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti